I carabinieri di Vescovana hanno denunciato due fratelli torinesi di 43 e 48 anni. Dopo aver contattato attraverso un sito internet specializzato nel commercio di auto, una 19enne del posto, per vendere una lancia Y10, si sono fatti spedire 200 euro di caparra e poi sono spariti. Impossibile rintracciarli, ci sono riusciti i carabinieri.